Noi abbiamo già come Comune di San Metto del Trondo un forno crematorio che è al massimo della sua potenzialità perché penso che a fine anno saranno circa 1.500 le cremazioni che vengono effettuate sia sui resti che su quello che è chi esprime la volontà testamentaria di voler farsi cremare e siccome siamo uno dei centri più importanti per quanto riguarda tutto il centro sud Italia si è reso necessario il dover ampliare questa forma di servizio che facciamo in parte per il Comune di San Metto del Trondo ma come dicevo lo facciamo per tanti altri comuni e per tante altre salme che vengono qui su questo nostro territorio. Abbiamo nell'ultimo Consiglio Comunale, come ricordava lei, abbiamo approvato una fideiussione per poter fare questo tipo di intervento per cui io credo che verosimilmente all'inizio della primavera del 2016 avremo in funzione questo secondo forno crematorio.